Ora dovremmo guardare l'integrazione del sistema dell'esistenza. Possiamo studiare l'esistenza. 1 è per essere e 0 non è per essere, dove l'ordine absolute è 1 e 3, come il secondo C10. Tutta l'unità è solo in potenza di esistere, e tutta la realtà è dinamicamente dividita in tutte le entità opposite in aczione e reazione. In questo modo, l'unico C10 è in aczione, ma sembra che il 10 risulta a meno 1 sia in aczione. In questo sistema, l'opposito, 1 e 0, del 0 in potenza di ogni base, o di 1, diventa un sistema digitale di rappresentazione. è ordinato come tutti i DVD possibili in file verticali, e il nostro mondo reale è solo una rappresentazione relativa. Questo è l'integrazione del universo, rappresentato in solo due, rispetto a sei file di ordine absolute. Il Dio 1 e 3 è rappresentato dai primi due linei. In sei times di duplicazione, 2 rise to 6, rendono 64 ordini assoluti, che non possiamo disocare, per essere relativi. solo questo è la nostra esistenza, una rappresentazione reale. Se noi, così, agiamo spiritualmente, rappresentiamo le masse, le tempo, le spalle, le flotte elettromagnetiche, etc., sono solo frutti del nostro cervello che usano il suo software e come una visione del mondo. e come una visione del mondo. I fisicisti, se prima di credo, tru' 1, la nostra semplice rappresentazione delle ordine digitale, facciano la fiction, credendo, tru' 1, la nostra fantasia. 2 rise to 6 equal 64, rappresentano 64 file di ordine verticale, in duplicazione, 1, 2, 4, 8, etc. Possiamo rappresentare questo ordine anche nel Tartaglia triangolo. Questo mostra che ogni nonno ha sicuramente una soluzione probabilistica, e che il nostro mondo, basato sui due possibilità del «to be» o del «to be not», esiste nel sistema integrale di tutte le possibilità diverse. solo questo esiste in realtà. Orders binari, che possiamo rappresentare come un mondo immaginario reale. Quindi un vero scientifico studia l'ho, e non la sua scuola rappresentazione. Quindi non facendo la fiction. Dividendo anche la nostra vita in due strade oppostanti, 1 e 0, questo reale 1 è 1, ma essenzialmente, solo relativo al zero dell'immaginario other field. È divinamente trascendere il nostro mondo reale, come il divino heaven che esiste in magnetismo e antimatter. In questo modo, il tuo modo, il tuo «to be» è 1 in potere, e il triforzo è un'unità in sua azione, che attraversa tutto in un punto geometrico, senza nessun altro senso. Per conseguenza reale, tutto quello che è in reale rappresentative action, è annihilato, è andato nel negativo «going back of the time», e tutta la rappresentazione esiste in una retroactive evoluzione, che finalmente carriera entrile tutto, nel povero «to be one» e «triford». è come Gesù ha definito il «to be» del «I am, who am» . Gesù è il vero, solo «scientista», perché solo «he» ha definito un e trefoldo l'absoluto fondamento del qualsiasi. Gesù ha definito una rappresentazione delle ordine digitale, come le due direttioni dell'esistenza che Gesù davvero rivela a Nicodemo, come nel Gospetto di St. John, nel cap. 3. I fisici, al contrario, credono nel Big Bang, esplodendo l'università in evoluzione e il tempo, che è così dinamico, perché è relativo alla vera azione «going back», che annihilata la rappresentazione, portando la verità della verità della verità di 1 equale 10 tenni, numeri, per rappresentare tutto, tutti. Il vero Big Bang dell'università è solo la duplicazione di binaria che va in 2, 4, 8, eccetera, e finalmente arriva a 2 che accade a 10, che è l'absoluta quantità. in realtà rappresenta tutta la massa in 10 che accade a 3 e tutte le 24 ore di rotazione di quella massa. in questo modo potremmo capire che 2 e 10 sono abbastanza del tempo e del nostro riempire e dell'absoluto che ordine tutto come una linea per conseguenza 2 10 e 10 sono relative opposti conti con 2 riempire a 10 vediamo 10 riempire a 2 e vice versa. In conclusione, quando vi mostro l'armità e lo studio studio il vero essenzio della nostra esistenza e quando vi mostro vediamo la divisione 10 divisi 9 uguali 1.1111 è rappresentato dalla nostra intelligenza l'universo infinito dell'universo in avvenzione nel tempo infinito decimale del futuro e che dal inverso di 1.111 1.111 multipli 9 uguali 9.9999 2.123 3.121 3.121 4.111 4.121 5.122 5.131 5.121 5.122 6.121 5.151 5.123 6.123 6.151 7.151 dalla nostra fantasia. Sono un scientista perché declero che questo universo infinito è solo una fantasia, potuto realizzarlo nella forma infinita di un calculus senza alcun tempo. Sono pieno di fervor in questo perché sono uno che, come dicevo, è un scientist di scienze fiction.